Ciao ragazzi Da Antonio Di Calcio e Palermo Oggi non ci sarà ovviamente il post partita Ci doveva essere un altro video Tra 10 minuti saranno praticamente Sarà il 5 settembre Quindi lunedì Questo video lo vedrete appunto questo lunedì Il video che avevo registrato invece di questo lunedì L'ho spostato a giovedì C'era una collaborazione da fare giovedì Ma non si potrà fare Quindi mi scuso In anticipo per questa cosa Per questo inconveniente Però era giusto farlo Allora Non è un video sfogo Però Visto che il post partita Era troppo tardi Farlo Anche perché c'è stato C'è stata una tempistica Insomma un po' troppo lunga Ho detto che non conveniva farlo E quindi ho deciso di fare Un commento un po' in generale Non tanto sulla partita Che poi comunque è andata male Ha meritato la regina di vincere Ma riguarda la tifoseria Ho letto un sacco di commenti Molto belli Si fa per dire Ovviamente Di gente che già inizia a essere Un po' troppo catastrofista Umorale Che quando tu vinci Ovviamente siamo tutti campioni Quando perdi siamo tutti Dei pezzi di cacca Non voglio utilizzare termini Un po' troppo forti Perché altrimenti poi Che ne so YouTube fa un po' come su Facebook Che appena dico Merda mi segnalano Ah ecco l'ho detto Ora mi segnalano tutti No vabbè A parte l'ironia Un po' Stupida Un po' Farlocca Che faccio Io leggo dei commenti assurdi Ogni volta E la gente Molte volte ti Punta anche il dito Perché tu critichi Critichi in maniera costruttiva Critichi senza Neanche insultare A differenza di chi insulta E non gli viene neanche puntato il dito Che poi Dico Per carità Il tifoso Il tifoso Può reagire in tali maniere Cioè in qualsiasi maniera Cioè puoi anche Incazzarti dentro di te Però scrivere nei commenti Una cosa carina Tipo dai ragazzi Ci rifaremo Io questa volta Non ce l'ho fatta Mi sono incazzato Dove ho detto Sì ok Va bene tutto L'amalgama Che ancora i giocatori Non si conoscono Però Dobbiamo studiare Molto sulla fase difensiva E uno mi fa Guarda che la Juventus Gioca tra pochi giorni O tra poche ore Una cosa del genere Mi hanno detto Io dico Ma è mai possibile Che uno se fa una critica costruttiva Deve per forza Subire qualcuno Che ti dice una cosa del genere Io proprio Non lo concepisco Questa cosa Uno fa una critica costruttiva Insultando Come fanno certuni Che dicono Eh ma adesso siamo in serie C Come due anni fa Come due anni fa La stessa cosa Eravamo neopromossi in C Eh ora rischiamo la D Stessa cosa Il secondo anno di C Eh ma quest'anno Si rischia la D Ora quest'anno Visto che siamo saliti Si rischia la C Capite E' sempre così Il palermitano Deve essere per forza Catastrofista Io per questo dico Che non cambieremo mai A parte Dico la mentalità ultrase Che come dice il coro Qui la mentalità E' sempre la stessa Almeno quella rimane Almeno quella rimane E meno male E dico meno male Che ci sono gli ultrase Non condivido alcune cose Riguardo Vabbè Non li voglio dire qui Comunque non condivido alcune cose Però io sono contento Che c'è una tifoseria Che sostiene il proprio club Pensate se non ci fosse Un mondo senza ultrase Guardate Mi cascherebbero le palle Da qui a Napoli Molto probabilmente Quindi Meno male Meno male che abbiamo Quelli che sostengono il Palermo E quando c'è da criticare Si critica Ma non Buttando Fango Sulla squadra così Tanto perché Bisogna farlo Mentre ci sono i giornalisti E ci sono anche Quelli che Commentano il Palermo Insomma Io vorrei citare Tanto gente Che fa anche le live Su Facebook Che se tu non la pensi Alla stessa maniera Ti ridono in faccia Però vabbè Bastano tre lettere Ma non li voglio neanche nominare Perché sono vergognosi Se tu la pensi In una maniera Diversa da loro Poi loro dicevano Eh ma noi ci abbiamo Sempre creduto Nel Palermo in B Grande cavolata Io parlo da obiettivo Io non ci credevo Poi c'è stato Il miracolo di Baldini Merita lui Merita i giocatori Che si sono ripresi Hanno avuto Una grande forza Una grande forza mentale Grazie anche al suo allenatore Che gli ha dato La scossa giusta Per vincere i playoff E io ho detto Sono soddisfatto Che questa squadra Finalmente ha tirato fuori Gli attributi Che è la cosa più importante Nel mondo del calcio Perché altrimenti Non faresti mai questo sport Giocheresti Che ne so A padel A cricket Quello che vuoi Basta che non giochi a calcio Purtroppo loro invece Loro è Convinti Sì Vabbè Vabbè Quello è il parere di gente Tale e quale a loro Che scrivono nei commenti Delle criticità Però loro lo fanno In maniera elegante E loro lo fanno Insomma Quelli che nei commenti In maniera molto Molto più Volgare Io mi lamento per questo Molte volte io Mi chiedo Ma perché Ma perché ogni volta Bisogna distruggere Perché in quattro partite Abbiamo fatto solo quattro punti Gente che ha criticato Brunori Che porca miseria Se è scarso lui Che ha fatto cinque gol Tripletta con la Reggiana Vero che era la Coppa Italia Va benissimo Ma in quattro partite Di Serie B Ti ha fatto due gol Uno sul rigore E vabbè Sul calcio è piazzato Ti ha segnato lui Però dico Porca miseria E' lui che al momento E' quello che Tira fuori qualche volta Il coniglio dal cilindro E' lui che ogni tanto Prova a metterci l'impegno Lui l'ha promesso L'ha detto Quando è salito Dalla C alla B Lui l'ha promesso Io mantengo sempre Le promesse Resto nel Palermo Se il Palermo vorrà Io sono qui Poi è vero Che è entrato in City Group E quindi è servito E' servito il grande Sforzo economico Che ha fatto City Group E ha fatto calare La testa anche alla Juventus Che voleva tipo Cinque milioni Per una stagione buona Che ha fatto comunque Brunori Bisogna essere obiettivi Poi alla fine Abbiamo preso due milioni Sta comunque contribuendo Continua a segnare Ma che volete di più? Che volete di più? Che poi tra cinque Sei mesi inizierete A cambiare di nuovo parere Ecco che cosa manca a Palermo La mentalità E Minamento Visto che oggi è domenica Minamento Uno dei giornalisti Che spano sempre Delle gran cavolate Dicendo Eh siamo 15-16 mila abbonati Lo sapete quanto ha fatto Il Palermo di abbonamenti? All'incirca sugli 11 mila Se non per miracolo 12 mila Vero è Attenzione Che in Serie B Siamo arrivati Con molta probabilità Forse di grande stacco Dal terzo posto Insomma Della gradatoria Degli abbonamenti in B Al Genoa Al Genoa Non so se ha fatto 20 mila abbonati O 18 mila Siamo arrivati i secondi E va bene Sono soddisfatto su questo Però Arriva una società Come Citigroup E non mi fai comunque 15 mila abbonati È vero Magari qualcuno Mi criticherà anche Per questa cosa Perché ne sono certo Che qualcuno lo farà Perché io ho letto Ragazzi Dei commenti Veramente vergognosi Gente che Scrive dei commenti Che non stanno Né in cielo Né in terra Commenti Che si commentano da soli Ma nel vero senso Della parola Credetemi Io Rimengo perplesso Perché poi c'è gente Che scrive Eh peccato Peccato Se il Palermo Continua a perdere così Io veramente Vorrei tanto Disdire l'abbonamento Complimenti Faccio un applauso a te Che sei veramente Un grande tifoso del Palermo Allora tu non sostieni La squadra Non sostieni la tua maglia Allora che cosa sei Non sei né carne né pesce Non sei tifoso Sei solo uno Che si gode lì La sediolina Con il suo scritto Il suo nome e cognome Con molta probabilità Con il numero Insomma della sediolina Dove ti va a mettere allo stati E basta Sei lì Per questo Non sei per andare a tifare Palermo Sei solo lì Per sederti Metterti così E guardare la partita Non sei un tifoso E io dico sempre una cosa Io fossi per me Fossi per me Io allo stadio Toglierei tutte le sedie Mettere solo tipo il numero là Ma per stare all'impiedi Non stare seduto Per carità è uno spettacolo Qualcuno direbbe Sì ma seduto Perché ho dei problemi Va bene Ci sta Però Allo stadio Si canta Si sostiene la squadra Perché altrimenti poi Queste piccole cose Se non ci sono Come fai a essere coinvolto Comunque in una tifoseria Che paradossalmente Non meriterebbe forse Neanche di stare in Serie B Dico forse perché Purtroppo ci sono tante cose Da cambiare In questa città E nei tifosi Però Non si può andare avanti così Spero in futuro Perché io sono sempre uno Che guarda in ottica futura Io spero Che la mentalità In futuro possa cambiare Anche se io poco fa Ho detto Mai cambierà Lo so Molte volte mi contraddico da solo Però dentro di me Sento In cuor mio Ecco In cuor mio spero sempre Che questa città E questa tifoseria Possa cambiare In meglio Non in peggio Che ogni volta Che se perdi una partita Sei scarso Rischi di retrocedere E poi il giorno dopo Se vinci Ah Dobbiamo puntare alla Serie A Dobbiamo puntare alla Champions League Dobbiamo vincere la Coppa Italia Scudetti Eccetera eccetera Mansur grazie E poi Se perdi Mansur vattene Capite Che così Non si andrà mai avanti Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate Ho voluto esprimere Questo mio parere Riguardo Ai commenti Degli ultimi giorni Un abbraccio a tutti E sempre Forza Palermo Ciao 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 Grazie a tutti